fin? fin! proprio lui il nostro amico fin e lebron james anche detto robin ahia ciao madonna velma che indebolisce è terribile comunque dai col batarang mamma mia stiamo facendo indebolimento doppio molla no? ciao dai ragazzi che forza ci potete buttare fuori un po' ma io li sento terrorizzati a tutti e due comunque si si mamma assafaddio ce l'avete fatto mi odia una morte comunque no fin che non esce non è un problema Gepard ecco qua no si è salvato ciao mamma mia mamma mia che intofata di mazzate mamma santa che mazzate guarda squadra misteri speciale in azione vuoi la rivincita? ok una mozza che? metto ora calcolata no in pratica lei fa una corsa alla scubidoo che si carica poi la rilasci e lei va prende il tizio e lo butta giù si telefonatissimo questo Batman comunque infatti ho messo Bugs tu con che hai giocato scusa? con Batman? con Batman si si ma noi c'ho la vedi da fotoprofilo del Batman ha telefonatissimo ho messo Batman si 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 non ce lo sapevo parte proprio due contro due io sono Batman ok io sono Bugs ho sempre voluto dire tutta a posto ragazzi tutta a posto complimenti eh adesso vengo a prenderti occhio alle capiglie forti Mamma mia siete fortissimi ragazzi, ma come cazzo fate a giocare così bene? Un po' di cassaforte tipo, cosa del genere Batman fammi vedere che stai fai Batti la battuta Vedi Prizzo comunque c'avevi ragione Cosa? Ti abiti subito Brazo Hackman, arrivederci grazie a Batman Non ti incazzata, Batman che peggio Eh, finì che poi non pari più per attaccare Lebron James è uscito E' incazzato Facile formarvi Capii? Batman Devi schivare Se no vedi? Non vedi le cassaforti Si è ciecato dalla rabbia Dal rancore Non sono sentimenti da Batman Aspetta, mi avrò una cosa Gapard Vai sono tuoi Di questo Dissolutti Ha fatto una cosa meraviglia Proprio con la calma noi totale Vai sono tuoi Mi fermo Ti è beccato un tosto Anche io ti ho tostato Che cazzo mi ha combinato